Cari amici, venerdì prossimo, 17, vi aspetto in via Achille Napoli, alle ore 21, per la festa di Santa Margherita. Ci sarà la mia scuola di ballo, nuoveggie stelle, salere in Amarica professionale. Però, la cosa importante è che ci sta il vichingo, e tutti gli amici, tutti quanti dovete venire, vi faccio divertire. Vi aspetto, vi raccomando a tutti quanti voi, di nuovo ve lo ripeto, venerdì prossimo, 17 in via Achille Napoli, ore 21, vi divertirete, è perché ci sta il vichingo. Ciao!